Buonasera dalla TG2000 edizione delle 20 e 30. In primo piano il maltempo, gravi perturbazioni in diverse zone del nostro paese, grandinate enormi a Pescara con venti feriti, tempesta anche a Milano marittima, nubi fragi e disagi in quasi tutta la costa adriatica. In Sicilia invece vasto incendio sulla spiaggia a Catania, bagnanti evacuati con i gommoni. Sentiamo Alessandra Camarca. Bombe arrivano, bombe! Sono delle bombe! Doveva essere una tregua dal caldo ed invece l'arrivo del maltempo si è trasformato in una guerra. Una tempesta di grandine con chicchi grossi come arance ha investito la città di Pescara. Una ventina di persone sono finite al pronto soccorso a causa di questa pioggia di ghiaccio. Anche una donna incinta con ferita al volto e al capo è stata ricoverata. E dopo la grandine un nubifraggio che ha allagato il piano terra e i semi interrati dell'ospedale di Pescara che ha costretto allo stop delle sale operatorie. Nel parcheggio di pendenti l'acqua ha raggiunto due metri, decine le auto distrutte, ma l'ondata di maltempo non ha colpito solo l'abruzzo. Ragazze, cadono gli alberi! Guardate! A Milano Marittima, in provincia di Ravenna, una bufera di pioggia e vento ha sradicato 200 pini secolari. Ferita gravemente una donna. La tempesta ha colpito anche le marche, causando allagamenti e devastando le spiagge di Numana e Sirolo. Un uomo è morto dopo essere stato colpito da un infarto osimo in provincia di Ancona durante la tempesta. Anche il santuario di Loreto ha subito dei danni, ma non ai ponteggi per il restauro di cupola e facciata, mentre un'intera ala dell'ospedale di Loreto è impraticabile a causa della caduta di alberi. Non solo l'acqua però ha causato disastri. Col vento caldo di Scirocco sono scoppiati diversi incendi a Catania. Paura anche sul lungomare della playa, dove i bagnanti si sono riversati in mare per evitare le fiamme che lambivano i lidi. Ora la politica, tante le novità. Lorenzo Fontana, le politiche dell'Unione Europea, Alessandra Locatelli, nuovo ministro della famiglia, hanno giurato oggi pomeriggio. Salvini nella bufera, ci sarebbe stata una trattativa in un hotel a Mosca tra emissari del vicepremiere e alcuni russi per negoziare fondi proprio alla Lega. Sentiamo Augusto Cantelmi. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Alessandra Locatelli ha giurato al Quirinale come nuova ministra della famiglia del governo Conte dopo il trasloco agli affari europei di Lorenzo Fontana, che in quanto già ministro non ha dovuto giurare. Domani a Palazzo Chigi la consegna delle deleghe. Si conclude così, senza scossoni, il mini rimpasto di governo. Ma la giornata del carroccio che incassa i due dicasteri viene in parte rovinata dalla vicenda russia. Salvini è il primo evento che non cambia tutto. Nell'audio pubblicato dal sito americano BuzzFeed ci sarebbe la prova della trattativa tra l'emissario di Salvini Gianluca Savoini ed esponenti del Cremlino. Dall'accordo l'invio al carroccio di milioni di dollari frutto dei proventi del petrolio russo. Il PD attacca e invoca chiarimenti anche in Parlamento. Salvini annuncia querele, mentre per Savoini la Lega non ha mai preso un rublo. A difesa dell'alleato si schiera Di Maio che rilancia invece sul salario minimo. Che cos'è il salario minimo legale? È quella legge che finalmente metterà fuori legge gli stipendi a 2-3 euro all'ora. A Palazzo Chigi il vertice sull'immigrazione e il tentativo del Premier Conte di trovare un punto d'intesa dopo lo scontro tra il Ministro della Difesa, Trenta, e dell'interno Salvini. 16 milioni di pensionati in Italia, un terzo prende meno di 1.000 euro. Sono i dati del rapporto annuale dell'Inps. 2 milioni gli italiani con il reddito di cittadinanza inferiori alle attese. Quanti hanno chiesto la possibilità di lasciare prima il lavoro con quota 100? Sentiamo Beatrice Bossi. Le posso chiedere quanto prende lei? Di pensione? Nessuna. 510 euro al mese prende. Quanto ha lavorato? Per quanto tempo ha lavorato? 40 anni. Che lavoro faceva? Vari, molti lavori. Come fa a vivere con 600 euro? Non pago niente. Sono quasi 5 milioni e mezzo gli italiani che finito il percorso lavorativo prendono una pensione inferiore ai 1.000 euro. Numeri drammatici che fotografano però anche segnali di miglioramento. Lo afferma l'Inps nel rapporto annuale pubblicato oggi, secondo cui i pensionati al limite della sopravvivenza rispetto al 2017 sono diminuiti di due punti percentuali. Tante anche le disuguaglianze nel nostro paese, dove l'importo medio delle 16 milioni di pensioni erogate si attesta intorno ai 1.156 euro. Ci sono fattori di debolezza dovuti alla crisi che ci portiamo, spero, alle spalle, fattori di ripresa dovuti a stabilizzazione del mercato del lavoro e riduzione della povertà, possibilmente valutabili nei prossimi mesi soprattutto. Ripresa che passa anche attraverso quota 100 e pensione di cittadinanza. Le misure bandiera del governo giallo-verde che insieme nel primo semestre di quest'anno hanno coinvolto però solo 257 mila persone. Le prossime mosse dell'Istituto di Previdenza punteranno a stanare le frodi relative alle pensioni di invalidità e contemporaneamente sostenere le famiglie più numerose. In ballo poi c'è anche l'ipotesi di istituire una forma di previdenza complementare pubblica. La cancelliera tedesca Angela Merkel è stata nuovamente colta da tremore davanti alle telecamere. Si tratta del terzo episodio in tre settimane. Questa volta la Merkel ha tremato visibilmente durante la visita ufficiale in Germania del premier finlandese. La cancelliera era al fianco del premier. I due stavano assistendo agli onori militari quando la Merkel ha improvvisamente iniziato a tremare. Le telecamere hanno colto il tremore. Il video in pochi minuti ha fatto il giro del mondo. Ma non preoccupatevi, sto bene e per un po' di tempo dovrò conviverci, ha detto ai cronisti in riferimento appunto a questo suo disturbo. E ora torniamo in Italia perché? Perché i nostri studenti non sembrano essere molto preparati. I risultati delle prove in Valsi 2019 sono allarmanti. Uno su tre alle scuole medie ha difficoltà a comprendere un testo in italiano. Sentiamo Barbara Masulli. Per avere un'idea del livello di apprendimento degli studenti basta guardare i risultati delle prove in Valsi. L'italiano è un problema per il 35% dei ragazzi della terza media in seria difficoltà nella comprensione di un testo e la situazione non migliora alle superiori. Io credo che questa difficoltà nella lettura però non sia imputabile soltanto alla scuola. Qui noi stiamo vivendo una rivoluzione informatica. I ragazzi spesso leggono sul cellulare, sugli schermi, hanno un rapporto diverso rispetto ai loro coetani di tanti anni fa con il testo. Quindi la scuola deve un po' riposizionarsi anche nell'intercettare questa diversa percezione del testo che hanno i ragazzi. Il quadro delineato dalla prova in Valsi è impietoso anche quando in ballo ci sono equazioni e grafici. Se in terza media poco più del 61% degli studenti apprende in maniera adeguata la matematica alle superiori la percentuale scende al 58%. E anche sull'inglese i nostri ragazzi non sono così ferrati. Solo uno studente su tre completa il ciclo scolastico raggiungendo il livello richiesto, dati che evidenziano innegabili motivi di preoccupazione, dice il ministro Bussetti. In questo contesto già desolante la maglia nera va al sud. Le regioni del centro-nord hanno risultati decisamente più adeguati rispetto a quelle del sud dove in alcuni casi più di sei ragazzi su dieci non raggiungono i risultati previsti. Al sud i ragazzi hanno un'opportunità di accedere alle fonti del sapere inferiore rispetto a quella dei loro coetani del nord. Quindi qua c'è un problema di giustizia sociale, c'è un problema di equità che va ristabilita. Sosta gratuita per i disabili sulle strisce blu, obbligo del casco in bicicletta per i bimbi di età inferiore a 12 anni, ma anche contrasto all'uso dello smartphone alla guida. Sono alcune delle novità previste nella modifica del codice della strada. Sentiamo i dettagli da Luciano Piscagna. Pene più severe per chi telefona mentre guida, ma anche prevenzione per i bimbi in bicicletta. Importanti novità in arrivo per automobilisti e famiglie tra le modifiche al codice della strada approvate in Commissione Trasporti della Camera. Innanzitutto, come accade in gran parte dei paesi europei, i bambini fino a 12 anni dovranno obbligatoriamente indossare il caschetto quando vanno in bicicletta. Sì, il caschetto va tenuto per tutti quanti i bambini soprattutto. Sì, 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 molto d'accordo perché c'è più sicurezza e quando cadono sbattono meno la testa. Il mio andava senza casco, senza niente. E se cade pazienza, non si fa male. Sceglie niente. Penso che sia una cosa utile e sicuramente che incrementi la sicurezza dei bambini. Saranno più duramente puniti invece con sospensione immediata della patente. Da sette giorni a due mesi, gli automobilisti sorpresi a usare il cellulare mentre guidano. Perfettamente d'accordo, sì, assolutamente sì. È pieno di imbecilli in giro che guida col telefono in mano. Sono d'accordissimo. È un beccato proprio prima uno che... Era fermo in mezzo alla strada col telefonino, dai. D'accordissimo. Io ho il bluetooth da almeno sei anni. Ma non è tutto. Il nuovo codice della strada, una volta completato l'iter parlamentare, conterrà anche l'obbligo delle cinture di sicurezza sugli scuola bus, le strisce rosa per le donne in gravidanza e per le mamme con i bimbi fino a due anni e sanzioni anche per il conducente dell'auto se il passeggero è senza cintura e della motocicletta se il passeggero è senza casco. Caso Orlandi. La cittadina vaticana scomparsa a Roma 36 anni fa. Domani mattina verranno aperte due tombe al cimitero teutonico dentro le mura vaticane per verificare se vi siano contenuti i suoi resti come da anonime segnalazioni scritte in una lettera spedita un anno fa ai familiari di Emanuela, appunto la quindicenne figlia di un dipendente vaticano di cui non si sa più nulla dal 22 giugno del 1983. In vista dell'imminente decisione della Corte Costituzionale sul tema del fine vita, chiediamo che il Parlamento consapevole delle proprie responsabilità istituzionali eserciti pienamente e tempestivamente la propria funzione legislativa in materia. Si apre così il comunicato stampa congiunto di alcune associazioni. Sentiamo Paolo Fucini. No a qualsiasi logica di scarto verso chi è segnato da malattie o vulnerabilità senza soluzione, come fosse un peso infruttuoso. Nessun atto di eutanasia trovi avalli o giustificazioni in leggi italiane. Così sei sigle cattoliche si appellano oggi al Parlamento perché eserciti pienamente e tempestivamente si legge la propria funzione legislativa. Se le Camere infatti non affronteranno presto il tema sarà la Corte Costituzionale a pronunciarsi. Ma le eutanasia avvertono movimento per la vita ed associazioni familiari, sociosanitarie e di medici, psicologi e psichiatri cattoliche è una violenza sbrigativa fuorviante che offende la dignità umana. Piuttosto aumentino sforzi e risorse per le cure palliative e l'accesso ad esse ovunque in Italia. Altrettanto doveroso è a stenersi da cure inefficaci o sproporzionate ma sono i loro stessi ordini professionali rileva l'appello a rifiutare il coinvolgimento di medici ed infermieri in pratiche e eutanasiche. All'appello fa eco il portavoce dei Vescovi italiani Don Ivan Maffeis. La morte procurata non può essere mai vestita da atto terapeutico o gesto benefico. Andiamo ora all'estero. Sette bambini siriani sono stati uccisi a causa delle schegge di una mina esplosa nell'est della Siria in un'area in precedenza controllata dall'ISIS. Lo riferiscono fonti mediche di Daira Zor, capoluogo della regione orientale ora sotto il controllo del governo. Le fonti citate dall'agenzia di notizie governativa precisano che i sette minori avevano un'età compresa tra i 9 e i 13 anni che sono morti appunto in seguito alle ferite riportate all'addome e al capo da schegge di una mina esplosa nel distretto di Dublin. È ancora radioattiva. La zona del sottomarino affondato 30 anni fa nel mare di Barents. Scienziati norvegesi e russi hanno riscontrato un livello di radioattività 100.000 volte superiore alla norma vicino al relitto del sommergibile sivetico Komsmolets, affondato per un incendio nel 1989 nel quale persero la vita 42 uomini dell'equipaggio. I rilievi sono stati effettuati a 1700 metri di profondità grazie ad un dispositivo di ultimissima generazione come stiamo vedendo da queste immagini. La dirigente dell'Istituto Norvegese di ricerca marittima che ha rivelato i risultati alla TV norvegese ha anche precisato che non ci sono minacce per la pesca nella zona. La squadra nazionale di calcio americana viene celebrata per la vittoria ai mondiali con una parata a New York. Le calciatrici accolte per le strade di Manhattan come delle vere e proprie eroine vengono acclamate da migliaia di persone. Sul carro insieme alle campionesse c'è pure il sindaco. Vediamo. Letizia da voi. Una parata da star lungo la via delle celebrità è il canyon degli eroi quello che ha visto passare JFK, la regina Elisabetta, l'Hinderberg e gli astronauti delle missioni Apollo. E come i primi uomini sbarcati sulla Luna gli americani hanno riservato gli stessi onori e lo stesso tributo alle atlete che hanno fatto la storia del calcio femminile. La quarta coppa del mondo è arrivata in patria e ha attraversato gloriosamente la città di New York ad accogliere il governatore di New York, Andrew Cuomo. La vittoria delle ragazze del calcio a Lione è stata occasione in patria per un accesissimo dibattito sulla equal pay, l'uguaglianza di trattamento economico tra uomini e donne, una piaga diffusa in tutto il mondo occidentale. Pagate molto meno dei colleghi uomini, le calciatrici hanno però raccolto molto più pubblico e molto più interesse. Queste ragazze praticano lo stesso sport degli uomini e in tutta onestà giocano molto meglio, ha detto Cuomo, accogliendole. Se c'è un senso alla legge economica, gli uomini dovrebbero essere pagati meno di loro. Questi stereotipi, aggiunto, devono finire e dobbiamo smettere di perpetuare questa ingiustizia. E davanti alle ragazze e alla folla che gridava equal pay, Cuomo ha firmato una legge che impedirà da ora in poi questa profonda ingiustizia. Non è solo la cosa giusta da fare, ha detto, una scelta morale deve essere una legge e ora lo è. La parata ha raccolto migliaia di fan, poi la festa finale alla New York City Hall. Il sindaco Bill de Blasio ha aperto la festa, la musica ha colto l'ingresso della squadra, la coach Gilellis e poi le ragazze, l'autrice del primo gol della finale contro l'Olanda, finita 2-1. Megan Rapino insieme alla Coppa e ancora una volta la storia è donna. Premiata oggi in Campidoglio la Lazio Calcio per la vittoria della Coppa Italia dello scorso 15 maggio, un orgoglio per la città di Roma, ha detto la sindaca Raggi, che poi ha ceduto il suo scranno, come vediamo dalle immagini, al simbolo della società bianco-celeste, l'Aquila Olimpia. A suo agio la vedete naturalmente nel guardare tutti, ma proprio tutti, dall'alto. E ha commosso il gesto compiuto ad un festival di musica rock, la folla solleva un giovane in carrozzella per permettergli di vedere meglio, un gesto che richiama altre situazioni simili, accadute anche alla presenza del Papa, e interpella sul rischio dei pregiudizi e sul valore della solidarietà. Un sogno realizzato, la gioia di Alex, il giovane con paresi cerebrale, protagonista appunto di questo straordinario gesto di solidarietà che ha commosso tutto il mondo, al festival di musica metal di Vivero in Spagna. La folla lo ha sollevato, come vedete, con tutta la carrozzella, decine di braccia, come un unico abbraccio. Così lui, che non cammina, ha potuto avvicinarsi alla band rock svedese di cui è fan, una lezione di umanità che arriva da un mondo, quello del rock duro, talvolta guardato con non pochi sospetti. Ed ora il minuto di Luis Badiglia, direttore del Sismografo, che ci parlerà della giornata mondiale della popolazione, celebrata dalle Nazioni Unite, e verrà celebrata domani, 11 di luglio. Vi sentiamo. L'11 di luglio le Nazioni Unite ricordano la giornata mondiale della popolazione, giornata con la quale si cerca di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle dinamiche demografiche, vale a dire su quei problemi che nascono in quelle parti del mondo, in quei paesi dove la popolazione cresce in modo sostenuto e veloce, ma al tempo stesso in quei paesi e regioni dove la popolazione diminuisce, decresce in modo sostenuto. È il caso dell'Italia e di molti altri paesi europei e asiatici. Nel primo caso, i paesi dove la popolazione cresce in modo sostenuto troviamo sostanzialmente nazioni africane. Questa realtà pone un problema fondamentale che è quello di chiarire qual è la importanza della crescita o della decrescita della popolazione e qual è la verità di questi fatti perché spesso si dice che la povertà e la migrazione è legata alla crescita della popolazione ma i dati scientifici delle Nazioni Unite dimostrano che potremmo dare da mangiare e benessere a 12 miliardi di persone invece siamo in questo momento 7 miliardi e mezzo e questo pone un interrogante alle quali occorre dare una buona risposta. Ed è tutto per oggi ora vi lascio la nostra Caterina dall'olio con il suo TGTG estate allora grazie per averci scelto e noi ci vediamo domani sera alle 18.30 Arrivederci. A presto